Giornate impegnative per l'ASL di Teramo che ha promosso una serie di iniziative particolarmente importanti. Si parte con la celebrazione della giornata mondiale del neonato prematuro, che vede la sinergia tra volontariato, in particolare l'associazione L'Abraccio dei Prematuri, e le unità operative di pediatria, neonatologia e ostetricia dell'azienda sanitaria Teramana. Un modo per assicurare il supporto psicologico e logistico alle madri e più in generale alle famiglie di neonati prematuri. Il volontariato è qualcosa che entra in campo nel ritorno a casa. Nel ritorno a casa dove purtroppo, cioè io lo definisco un salto nel buio, perché al di là del bambino prematuro il volontariato interviene anche a sostegno delle mamme in genere, delle fragilità psicologiche delle mamme proprio nel momento post partum. È un salto nel vuoto perché dopo una degenza breve, una dimissione precoce, perché dobbiamo rispondere a criteri di efficienza, di razionalizzazione, eccetera, si torna a casa, spesso alla prima esperienza, con un allattamento non ancora avviato, con il baby blues che insorge proprio nel momento in cui si rientra a casa e che in soggetti predisposti può dare grosse problematiche proprio di tipo sanitario importanti, la depressione post partum, la psicosi perperale, eccetera. Ma anche laddove non ci siano questi rischi, il sostegno alla mamma, alla mamma in modo particolare, non soltanto psicologico sicuramente, ma anche logistico è importante. Quindi il volontariato va a colmare questo vuoto che al momento c'è nell'assistenza territoriale che ancora non focalizza l'attenzione sulle mamme. Si prosegue poi con il Welcome Day Tutto Teramano, promosso dal Dipartimento di Medicina Clinica dell'Università degli Studi dell'Aquila e dalla Direzione Strategica dell'Asla di Teramo, con lo scopo di promuovere l'accoglienza delle 40 nuove matricole del corso di laurea in infermieristica della sede di Teramo. Dopo tantissimi anni, grazie all'Università dell'Aquila, abbiamo riportato il corso di laurea in scienze infermieristiche anche a Teramo. e la cosa bella è che l'anno scorso erano 20 matricole, quest'anno ne sono 40, quindi un riconoscimento importante per il lavoro che stiamo svolgendo. Intanto sono iniziate a Roma le selezioni per l'assunzione di 196 OS, operatori sociosanitari. Al maxiconcorso, che vede capofila l'Asla di Teramo per la Regione Abruzzo, hanno presentato domanda 8.000 candidati. 8.000 domande, 50% ieri e il 50% oggi. preluglio all'altro concorso che faremo il 24 di infermieri e all'altro dei collaboratori amministrativi che invece faremo a Pescara.